ciao a tutti ragazzi qui alessandro e oggi è tecnicamente secondo che ho già fatto un altro account youtube e sono su un altro account infatti avevo già fatti avevo già fatto altri video e domani forse se arriviamo domani a 20 iscritti forse ci sarà la live ma forse non si sa ancora adesso non so che cosa fa che cosa giocare se no che cosa che è un canale un po dedicato a sonic credo che giocheremo all'uno perché c'ho voglia e non giudicate ok perché altrimenti vengo a casa vostra ok ho finalmente io personalmente sonic 1 l'avevo già finito su un altro telefono perché questo qui è molto più veloce dell'altro che avevo circa lo so qui a lentino certe volte ma vabbè questi sono solo dettagli sì molto veloce molto stare iniziamo a giocare allora sto laggando come non so che cosa e sicuramente apparirà qualche pubblicità così a casa quanto laggo comunque non so forse riuscirà a farla da computer la live mi raccomando domani a per favore venite nella live ma vabbè iniziamo il primo atto credo che farò tipo i primi tre atti poi chissà perché quando inizio a registrare sempre mi devi laggare come non so che fa ok certo basta laggare non so se voi vedrete laggare come l'ho detto mamma mia sto anche perdendo l'italiano comunque sì da quel che vi dico no cosa sto dicendo sto solo dicendo parola a caso senza senso mentre sono su questo gioco che praticamente laggo guarda ecco ah la sofferenza non sai cosa vi dico sembra che il primo video non riuscirò a fare secondo me i tre atti perché non ce la faccio però forse riuscirò a fare la zona speciale sì ci abbiamo fatta ok primo atto fatto ora vabbè tutti gioco ah ecco stavo dicendo e adesso siamo entrati nella fase speciale e anche qui si lagga naturalmente perché mi pareva che ok devo andare qui bravo sonic sei bravo non cadere lì che ti ammazzo dopo vengo a casa tua facci il peggio sonic giuro che sei no 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 aspetta te riuscito a prendere il telefono per andare a denunciarlo come solito lento come non so che cosa e mi sa che adesso il video concluderà chiuditi bravo gioco c'è telefono ok il video il mio tecnicamente primo video finisce qui spero che vi sia piaciuto suppongo di no faccio schifo grazie se vi è piaciuto mettete like se non vi è piaciuto mettete non mi piace iscrivetevi al canale che manca proprio un iscritto ai 20 iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao